Che cos'è la politica fatta con il cuore? E' la politica fatta nell'interesse della gente, che non accetta compromessi sui principi. E' la politica che ha l'ansia della giustizia sociale e dell'equità. E' la politica che ho sempre praticato. E che cos'è la buona politica? E' la politica che si fonda sull'analisi e sullo studio, che sa mettersi in discussione, che non si innamora delle proprie idee ma le sa aggiornare. E' la politica che sa stare al passo con i tempi, che sa indicare soluzioni, che vive di coraggio e cervello. E' la politica buona, che non lascia nulla al caso, ma si alimenta di speranze e sogni condivisi e lavora perché essi si avvergono. Il 31 maggio al Consiglio regionale scegli la buona politica. Vota PD. Scegli Paolo Campo.